Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, siete ormai più di 30.000 e per questo io non posso che dirvi grazie, non posso che mandarvi un grande e affettuoso abbraccio. Il canale è nato poco più di due anni fa, quasi per gioco, ho registrato una video lezione per una classe che in quei giorni aveva diversi assenti impegnati nell'Olimpia di Matematica, impegnati in attività scolastiche e da quel primo video dedicato ad Eraclito, il canale è cresciuto, è cresciuto diventando un piccolo grande punto di riferimento per tutti gli amanti della filosofia, per gli studenti, per le studentesse, ragazzi, ragazzi, per gli adulti, per i neofiti della filosofia, per gli appassionati, per i cultori della materia. Il canale è dunque diventato un'isola, un'isola in cui ognuno può giungere con la propria nave, barca, con la propria zattera, in cui tutti possiamo attraccare per discutere, per parlare, per vivere la filosofia. Il canale è cresciuto grazie alla vostra passione, grazie alla vostra curiosità, grazie al vostro affetto. Il canale è proprio filosofico perché parte dalla meraviglia, parte dalla curiosità. La filosofia è meraviglia, curiosità, la filosofia è discussione, è incontro, scontro, è dibattito, la filosofia è mettersi in discussione, la filosofia è gioco, gioco intellettuale, la filosofia è speculazione, la filosofia è andare controcorrente, la filosofia è fare anche dei voli pindarici, la filosofia è scavare sottoterra o è andare al di là delle nuvole, la filosofia è sapere critico, esercizio della ragione, la filosofia è imparare a camminare con le proprie gambe, la filosofia è costruire sulla testa, una testa ben fatta, la filosofia è seminare ortiche nel giardino del re e delle regine. La filosofia è dunque magma e caos e vitalità, la filosofia è un viaggio, un grande viaggio con autori, con pensatori, con domande alla ricerca di risposte, io vi ringrazio per fare ogni giorno un piccolo pezzo di questo viaggio con me insieme, ci stiamo penso anche divertendo perché alla fine della filosofia è anche divertimento, è gioia, è la gioia del vivere e per festeggiare questi oltre 30.000 iscritti ho pensato di leggervi una favola di Ermanno Bencivenga tratta appunto dalla filosofia in 52 favole, la favola in questione si intitola L'Uomo Immortale. Un giorno chissà come nacque un uomo immortale, ossia poteva morire se voleva, bastava che bevesse l'acqua delle fonti maligne, ma poteva anche non morire, questa è una gran fortuna, così almeno pensavano i suoi amici e parenti che non la smettevano di congratularsi con lui. L'Uomo Immortale crebbe, si trovò un lavoro, si sposò ed ebbe dei figli e visse felice e contento per un po' poi intorno a lui la gente cominciò a morire, tutti quelli che conosceva, sua moglie, i suoi figli sparirono uno dopo l'altro, c'era gente nuova in giro adesso e l'Uomo Immortale dovette cominciare da capo, risposarsi, avere altri figli, farsi altri amici. Ogni volta che incontrava qualcuno doveva raccontargli tutta la sua storia dall'inizio, perché quelli che la storia la sapevano non c'erano più ed era una lunga storia e diventava più lunga di giorno in giorno e sempre più l'Uomo Immortale pensava che non valesse la pena di raccontarla, perché tanto anche questo nuovo amico di un anno, di un'ora avrebbe finito per sparire e sempre meno gli riusciva di sopportare la paura e la rabbia che leggeva negli occhi dell'altro. Una sera d'estate l'Uomo Immortale si recò alle fonti maligne, si sedette di fronte all'acqua che scorreva e passò ore a contemplarla, in realtà non la vedeva affatto, pensava invece a quella sua vita implacabile. Quando infine si alzò sicchino e beve, i pochi curiosi l'intorno si guardarono perplessi e anche gli altri, quando la notizia si diffuse nelle grandi città affollate di rabbi e di paura, non seppero darsene ragione. La filosofia è vita, la filosofia è un viaggio, è un viaggio tra la nascita e la morte, la filosofia deve accompagnarci alla ricerca di un senso, ma questo viaggio è possibile soltanto perché c'è la morte, la morte è quell'avvenimento che prova a dare un senso, direbbe Heidegger, al nostro essere gettati nel mondo. Ci obbliga la morte alle domande, ci obbliga ad interrogarci, ci obbliga a trovare un profondo senso, un orizzonte del nostro vivere, insieme agli altri e con noi stessi. Dunque la filosofia è una chiave o un mazzo di chiavi per poter aprire delle finestre, dei cunicoli dentro di noi e provare a conoscerci. Buonanotte a tutti, buona filosofia e ci vediamo e sentiamo nei prossimi giorni.